Ciao a tutti e benvenuti in questo webinar un po' particolare che si intitola il tiramisù, sì parliamo proprio di una ricetta, e il testa split view che è qualcosa che forse la maggior parte di voi non conosce. Da prima devi giocare, poi ti spiego che cos'è e a cosa serve. Per questo è la schermata del testa split view, questo è un QR code quindi basta puntare il vostro cellulare e tablet qui per accedere al test oppure utilizzate questo link bookwidget.com e inserite questo codice QPEZR4 oppure fate un accesso diretto facendo clic qui. Dato che mi state guardando penso che non riusciate a fare clic sul video ma potete utilizzare le slide poi che sono associate nel nostro ambiente che si trova all'interno di WeSchool. Bene, di che cosa parliamo? Cosa vuol dire questo tiramisù, questo test a split view? Beh, calma e gesso, questo è il workflow. Prima di tutto dovete fare il gioco. Se non fate il gioco non capite il significato di questa particolare forma di verifica. Poi vediamo quindi a questo punto come funziona il testa split view e poi parliamo di modelli organizzativi, obiettivi, tipologie e valutazione. Quindi in questo webinar noi ci occupiamo fondamentalmente di strutturazione, organizzazione, pedagogia dello split view. Non parliamo di come realizzarlo perché la tecnica di realizzazione attraverso l'applicazione bookwidget con anche un confronto con google moduli che non ha l'opzione di split sarà fatta in un secondo webinar che si occupa proprio invece di insegnarvi a realizzare questa tipologia di test. Per cui adesso cosa dovreste fare? Voi dovreste bloccare questo video, tornare indietro, fare il gioco e poi proseguire, andare avanti con la spiegazione. Siete pronti? Fatelo! Ci vediamo! Dato che è un video immediatamente, ma in realtà a secondi tempi che vi occorrono. Quando si apre il test bisogna inserire dei dati. Questo solo nel caso in cui il test sia fruito in modo indipendente dalla piattaforma Classroom di Google perché altrimenti se voi create il test e lo integrate direttamente nella piattaforma attraverso un sistema che verrà spiegato poi nel webinar successivo che parlerà della tecnica di realizzazione, non c'è bisogno di compilare questo form. Comunque noi inviamo e a questo punto inizierebbe il conteggio ed ecco come si presenta un test a split view. Sulla parte sinistra avete le risorse di riferimento per svolgere il test, quindi tutto quello che vi serve, il che significa che lo studente deve leggere, analizzare il testo, può ascoltare i contributi video, per esempio... Ciao! Benvenuti in questo esercizio. Qui sotto trovate alcuni materiali che vi possono essere utili per svolgerlo e naturalmente alla fine preparate questo tiramisù. Ciao! Ecco, quindi potete avere una presentazione così, audio del professore, poi materiali video, ovviamente in questo caso direttamente collegati a YouTube che gli studenti possono vedere, fermare, riascoltare, eccetera, eventuali immagini e poi chiaramente il testo. Quindi in realtà i contenuti per svolgere il test ci sono tutti nel split view, nella parte di sinistra. In questo caso poi nella parte destra c'è il test. E' chiaro che il test a questo punto non può essere un test qualsiasi, classico, risposta multipla o domanda aperta, eccetera. Deve essere un test creativo, come vedete qua mentre io sto scorrendo. Quindi si tratterà di collegare, si tratterà di scrivere, ecco questo è stato inserito solo per mostrare che esiste una compatibilità precisa con Latex e quindi gli insegnanti possono scrivere formule matematiche e gli studenti possono usare una lavagna per sviluppare il procedimento di soluzione. Poi spiega una frase, la correzione del test in questo caso è automatica perché va a scegliere le parole che voi avete indicato come elementi fondamentali della spiegazione e quindi attribuirà un punteggio. Il punteggio è stabilito qui, lo stabilite voi, per esempio questa risposta vale tre punti, questa invece ne vale 45, questa 30 perché c'è un errore. C'è un errore perché abbiamo stabilito che ogni volta che si inserisce una parola corretta all'interno di una casella il test segna dei punti. Ve lo faccio vedere perché sarà poi da correggere, è un errore che capita sovente perché voi dovete distinguere tra il punteggio globale di questa parte e il punteggio invece per ogni singola operazione chiaramente, quindi è molto come dire flessibile. Il test poi vedete che si possono rimescolare le domande e quindi in pratica ogni studente poi ha una disposizione individuale. Allora vedete che in questo modo noi sollecitiamo l'intelligenza dello studente ma diciamo di questioni pedagogiche di datte che ne parliamo fra poco sempre all'interno di questo webinar. Aggiungo solo che finito il test naturalmente c'è l'invio al docente, l'invio automatico. Il docente ha già inserito la sua email e quindi i suoi ID in Book Creator nella creazione del test stesso quindi non c'è nient'altro da fare che inviare il test e se ci troviamo in Classroom è ancora più automatica la procedura perché si trova all'interno di un compito e quindi avviene con i meccanismi classici di restituzione di un compito. Qui vi volevo solo mostrare in che cosa consiste lo split view. Ed eccoci ora tornati alle nostre slide dove parliamo della pedagogia e della didattica dello split view. Per prima cosa dobbiamo vedere in che modo lo split view può essere organizzato. Abbiamo visto nel caso che vi ho presentato che il test viene introdotto da una voce umana di benvenuto. Questo serve in tanti casi soprattutto per determinare subito una relazione affettiva con lo studente quindi qui dipende anche dalla classe, dall'età, dal tipo di relazione che avete. Ricordatevi che un benvenuto audio anche di pochi secondi è qualche cosa che mette a proprio agio lo studente. L'audio però può anche riferirsi a dei podcast che possiamo inserire come una sorta di introduzione. I podcast ovviamente possono essere registrati anche con la nostra voce. Dunque potrebbe servire un audio podcast per un riassunto oppure per una introduzione. Poi avete visto che abbiamo collocato anche un filmato che poi si trattava di una lezione. La video lezione può essere scelta, reperita all'interno di uno dei canali che riguardano le vostre discipline ma può anche essere una registrazione di una vostra lezione. Nel qual caso deve essere un po' fatta apposta perché ovviamente non può essere così lunga da poi impedire l'esecuzione del test. Ma se la fate voi certamente sarà più calibrata e quindi anche nei tempi sarà più adatta al tipo di prova che poi voi richiedete allo studente. La parte fondamentale del split view però dal punto di vista delle risorse che è fornita è sicuramente il testo di riferimento. Il testo di riferimento pone subito una questione che riguarda la quantità perché la quantità determina il tipo di impegno che lo studente deve consacrare alla lettura o alla ricerca delle risorse. E quindi in sostanza stiamo parlando di testi più brevi o più lunghi. Io normalmente in questo tipo di verifica preferisco dei testi lunghi perché voglio proprio anche misurare un certo impegno nella lettura e nella ricerca delle informazioni che poi servono per svolgere positivamente il test. All'interno della parte delle risorse possono essere collocate anche delle mappe che servono un po' a tutti per avere un quadro più preciso delle parole chiave, dei nodi, dei riferimenti ma anche per sostenere i ragazzi in difficoltà di apprendimento. E infine possiamo dire che il testo di riferimento può riguardare pagine del libro di testo proprio prese, collocate nel caso in cui si voglia proprio utilizzare le stesse risorse che gli studenti hanno dovuto affrontare per studiare l'argomento dispense dell'insegnante oppure un altro tipo di documentazione che non è stato utilizzato in classe. Infatti questa è la questione fondamentale che poi analizzeremo meglio cioè possono essere le stesse risorse usate per studiare oppure delle risorse diverse. Ci ne occupiamo subito perché parliamo di pedagogia dello split view e affrontiamo tre casi, due li presentiamo qui, il terzo è questo e riguardano tutti la risposta a questa domanda. Le risorse, specialmente le risorse testuali che noi forniamo, devono o non devono essere e in che rapporto sono con le risorse che loro hanno avuto per studiare l'argomento. Allora, partiamo dal primo caso. Il primo caso dice che le risorse sono le stesse che gli studenti hanno impiegato per studiare quel contenuto. Allora, a cosa serve la verifica? Serve a consolidare l'apprendimento. Normalmente la possono rifare e il voto registra un processo portato a termine. Cioè, in fin dei conti, noi abbiamo studiato a fondo qualche cosa, riproponiamo gli stessi contenuti, possiamo addirittura invitarli a rifare più volte il test perché si tratta proprio di un consolidamento dell'apprendimento, del processo di apprendimento che tra l'altro noi possiamo osservare in diretta se strutturiamo bene poi la parte di destra anche in modo un po' creativo, in modo da uscire un po' dal quadro classico delle verifiche che si propongono normalmente dopo uno studio di questo genere. Quindi li sollecitiamo veramente ad approfondire proprio il processo di studio. Il secondo caso invece qual è? È quello nel quale le risorse sono diverse, ma i contenuti sono uguali. Quindi il test, in questo caso, ha lo scopo di verificare le conoscenze e le competenze critiche dei ragazzi e la valutazione serve per inquadrare questo aspetto. Cioè non proponiamo le stesse identiche risorse che hanno utilizzato per studiare, ma non usciamo però da quei contenuti, anche dal modo in cui quegli stessi contenuti sono stati trattati, solo che anziché presentarvi il libro di Mario Rossi, che loro hanno avuto come libro di testo, o la lezione del professor Alberto Pian sarà il libro di Giovanni Bianchi e la lezione di Maria Antonietta, che però riguardano esattamente gli stessi identici contenuti e, diciamo, ricaricano sostanzialmente le stesse procedure, le stesse sequenze logiche e così via. Ripeto, in questo caso noi verifichiamo le conoscenze e le competenze critiche dei ragazzi e ci serve proprio per inquadrare questo aspetto. Il terzo caso invece riguarda risorse diverse che trattano contenuti che non sono stati affrontati. E voi dite, vabbè, ma com'è possibile una cosa del genere? È possibile per due motivi, che riguardano due tipologie differenti. Ripeto, risorse diverse che trattano contenuti che non sono stati affrontati. Abbiamo un caso, cioè un sottocaso, che è questo. Noi non abbiamo affrontato un argomento e lo facciamo attraverso la tecnica dello split view, perché vogliamo sollecitare i nostri studenti a ricavare da se stessi le informazioni sulla base di una serie di risorse. Allora qui entriamo in una didattica che è definita multicanale e che sollecita la capacità autonoma degli studenti, una volta che le risorse sono state selezionate, ma sono state selezionate dall'insegnante, non da loro, a ricavare quegli elementi fondamentali che poi noi li aiutiamo a mettere insieme attraverso che cosa? Attraverso le domande, attraverso i giochi, i quiz, che predisponiamo nella parte destra della verifica. Caso invece 3.2, diciamo così, sottocaso, è che effettivamente noi abbiamo studiato, abbiamo studiato un argomento X, ma questa volta presentiamo un momento di approfondimento, un momento di approfondimento che riguarda l'argomento Z, che fa parte, diciamo, dell'argomento X, ma entra in profondità, quindi noi non ne abbiamo proprio parlato, ma dovrebbero avere i ragazzi le basi metodologiche e i punti di riferimento chiave per poter in qualche modo comprendere questo approfondimento e sviscerarlo e quindi ricollegarlo poi all'argomento più generale. Dunque, in questo caso, noi valutiamo le capacità critiche di collegamento oppure, come abbiamo visto prima, valutiamo le capacità di saper decodificare un contenuto e di saperlo comprendere. Ecco dunque che lo split view, che vedete sembra un giochettino così simpatico da proporre, ha sempre diverse motivazioni pedagogiche e offre un'ampia gamma di possibilità che si moltiplicano, tra l'altro, sulla base della vostra capacità di rendere anche più creativo il momento della somministrazione delle domande, dei giochi che si trova appunto sulla parte destra. Questo è quanto vi volevo dire per presentare questo strumento che io trovo veramente molto interessante e stimolante che tra l'altro ai ragazzi piace anche parecchio. Dovete sempre considerare con attenzione qual è il tempo di svolgimento, perché c'è un tempo di lettura, indagini delle risorse, risposte e così via. Non è semplice. Anch'io spesso faccio delle prove, a volte somministro a degli altri studenti una cosa simile e poi cerco di capire un po' quanto tempo è necessario. Vedremo delle tecniche poi per fare in modo che si possa arrivare a definire anche un tempo giusto, corretto per lo svolgimento di queste tecniche. Per questa parte, questo webinar è finito perché non presenta delle spiegazioni di tipo tecnico. Nella seconda puntata invece vedremo proprio come creare tecnicamente un test a split view e utilizzeremo l'applicazione per eccellenza che ci consente di fare questo e che è Book Widget. Però non aggiungo altro, direi che a questo punto provate, provate a fare il test, così ragionate un po' sulla questione in attesa che arrivi la seconda puntata per parlare proprio di come si costruisce, direi fisicamente proprio, uno split view. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.